Sarà triste perché almeno per me ma anche per voi che avete vissuto assieme a noi io non ho motivo di festeggiare sapendo che abbiamo delle persone che lottano tra la vita e la morte lottano per restare in vita non penso che noi come comunità dobbiamo riconoscere che abbiamo delle persone che lavorano a Capodanno sono i nostri uomini e donne della sanità quindi veramente auguro di cuore salute di tornare in perfetta forma fisica quest'anno deve finire spero che il 2021 anche grazie al vaccino ci possa restituire le nostre vite guardate che il mondo si è fermato il mondo si è fermato e poi ringrazio tutti quelli che mi vogliono male e dico, auguro buon anno a tutti comunque veramente di cuore, non in maniera provocatoria penso che la forza del Veneto è essere comunità grazie a tutti